Due distinte operazioni sono state messe a segno all'alba di stamattina dagli uomini della squadra mobile di Catanzaro, diretta da Rodolfo Ruperti. La prima, nome in codice perse, coordinata dalla procura antimafia di Catanzaro, ha consentito l'esecuzione di tre provvedimenti cautelari in carcere, emessi dal GIP del Tribunale di Catanzaro a carico di Saverio Giampa, ritenuto responsabile in concorso dell'omicidio di Bruno Cittadino avvenuto alla Mezza nel 2008, Pasqualino Torcasio, responsabile in concorso dell'omicidio di Giuseppe Torcasio e Manuel Ruiz, accusato a distorsione aggravata nei confronti di un esercente e un'attività di rivendita di articoli sportivi alla Mezza Terme. I particolari dell'operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa dal procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, Vincenzo Antonio Lombardo, dall'aggiunto Giovanni Bombardieri, dal capo della mobile Ruperti e dal dirigente Angelo Paduano. A destare particolare scalpore fu l'omicidio di Giuseppe Torcasio, avvenuto il 22 ottobre 2003 nel parcheggio di un supermercato di la Mezza Terme, affollato di gente. A commissionare il diritto sarebbe stato Pasqualino Torcasio, titolare di un noto ristorante e di un bar pasticceria alla Mezza. L'uomo si rivolse al cugino Angelo Torcasio, affiliato all'omonimo clan, per uccidere Giuseppe Torcasio, col quale, a dispetto del cognome, non aveva rapporti di parentela. Una vendetta di natura personale, dal momento che la vittima aveva ucciso nel 1994 il fratello dell'imprenditore. Il secondo omicidio contestato dalla polizia è finito in carcere Saverio Giampà. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe avuto un ruolo nel delitto di Bruno Cittadino, compiuto sempre alla Mezza Terme. Giampà avrebbe partecipato a quel delitto, tra l'altro ricostruito in larga parte nell'ambito dell'operazione Perseo, contro le cosche di la Mezza. Il blitz ha portato anche all'arresto di Khalid Esarwai, Issam Ossessa di nazionalità marocchina e Antonio Gualtieri, ritenuti responsabili a vario titolo di tentato omicidio e distorsione ai danni di un fotografo di Catanzaro.